26 è proprio bello che mi ho affascinato la po' da roba, tanto ce li ho riposso. Io provo due volte la stessa cosa, ho provato. Come io ero il cacinotto da 3 volte così parla di più la macchia. Chiedo il risarcimento, no quello ero io che ho trovato due volte consecutivamente. Allora gli aggiornati dei voti consecutivi nel discount, una volta macchia e poi una volta aggiornati 15.000 fish. Ma quello è buono, come quello non lo so tolto, ma il discount è buono, quindi ti dai 25% di sconto. A me 5% sono strunze. A me mi ha dato il 25% di sconto su una fissa di un velo. A me c'è la 10% di sconto? A me d'a te i discount di sconto nei suoi mercati, che cazzo ci faccio? I snack invece 8 euro, quant'e euro fa? Tu? Non vuoi che ti tocchi? Ma dai ciò bella e sono. Che hanno sempre! Che tarantelle, che tarantelle, che tarantelle, che tarantelle, che tarantelle, che tarantelle, che tarantelle. Faccio il sesso E' il sesso Vai vai, mi piace questa mappa Non lo so, non l'ho mai fatta questa mappa, sincero Qualcuno mi hai aiuti? Quanto ti serve? Niente, volevo salire Qualcuno mi aiuti? Poco poco mi ricorda quando siamo andati Oh, 3 kill Finchia Ma la granata Ma la cazzo devo salire un'altra volta Ok, son salito Era pure girato il treno Che c***o Si chiama il treno per cassa No, entriamo nel treno Entriamo nel treno 4 kill Scaddo Sono un sassone, mamma mia Ma dove stanno gli avversari? Ma che ho ancora dovuto avere una persona? Ok, stavo un ucciso Nooo, mi hanno ucciso Stavo facendo 6-0 Che palle Stavo facendo 6-0 Stavo facendo 6-0 Stanno tutte quante vicino al treno comunque Ma che c***o Al dentro sto debute Mi hanno usato Stavo vicino al treno, hai detto? Ma che c***o Tutte nel treno, vicino al treno Stanno per la vicina, da me Ma schifo un barriello è merda eh vabbè sto sfinato con il cecchino con la mitraglietta, che cazzo mi aspetta? beh niente, ma questo mi soleva caro frate però, mamma mia questo è un video positivo, no? niente, oh, però, meno male che non sono entrato non è strato, ora allora, ora cambiamo l'agio, vado di qua mamma mia, con me non l'ha già fatta, chissi mamma mia, sono il boss finale dietro! bravo, questo che l'ha giusto ma si è fatto un altro, mamma mia questo vapp si vincina a noi mamma mia non è strato non è strano mi è strano io mi non moro mi è strano ma niente 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 non muore sta gente ma che cosa fa? non lo so ma se lo cazzo lo so niente niente sei sì tu ti tupi ma vabbè è un p**** vai vai vattene a p**** Ma non muore! Ma dadi, ma quello là che sta sparando a caso, che cazzo fa? Ma dici, dici, ma che palla! Che stanno... Guarda, chi l'ha fatto? C'è nessuno che sta dentro ai piranet? Eh, niente, ma ci sono pure a me, chi sta... I round dopo giochiamo con la vitraglietta. Ah! Fatte cacavano! Ammori, chi sta? Direi vecchio! Ha cagato il malo! Ma fatte cacavano! Hai fatto il giro di acqua! Ma che mi rimmerdi, che tempo! Ma prima di due 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 tre non basce, tu cacavano! Vai, aprite, aprite! No, vai, guarda, la mera rete, ma è schifo! Ah, pangulaffato, bello! Dammi, biglietti, biglietti! Era dovevo biglietti! Ma no, il sacco, non lo faccio! Malivadana, mamma mia! Malivadana! Che cazzo, mamma mia! Ma vaffanculo, vai, vai! E' un'equilibra, tra l'altro! Deve che fosse più equilibrato, se la gente se li passa in giro, cazzo! Allora, hai raggiunto! Questo, il suo gioco è nel bastionato! Malivadana! Aspetta! Non senti quel buchino, coro, scuoto Ah, peccato! Ma quanto tempo non usavo la parola peccato? Ma niente, niente, cioè non è possibile, quello ricaricava l'arma, gli è abbassato un po' e non è possibile Oh, se siete sul treno, che orgoglio Ah, qua non c'è nessuno Sembrava un film di mio zio, coro, coro Poi c'è una tappa per te Noi, perciò l'uomo, ciao Un animo adesso è bloccato in due treni Non è vero Quelli hanno sparato dall'altro lato, stanno sparando e niente, ok Ma io non ho capito che lo sconete di questi quali sono, qual è? Eh, io lo so qual è, è dall'altro lato E' quello là parallelo al nostro, sempre dritto, vieni con me, vieni con me, vieni con me, vieni con me Ciao Ciao Ah no, non è vero, non sei tu Io si caccia anche a mio papà Ma come ho fatto? Come scusami Come è possibile? Ho sperato a racclaim? Mi hanno rubato la kill Ma come è possibile? Non ho capito Mi hanno rubato la kill e niente ma io non moro felice il loro, sai? io non moro tro felice chi è? schnappo oh sono dietro di te, ciao, girati, girati ciao, vieni, 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 vieni ma hai trovato lì, mangio si cazzo? no, 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 non mangio la cazzo aspetta, vieni, 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 vieni che fa? l'ho ucciso vieni, 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 stanno qua, è qua lo spawn non morla eh niente, ma mori Nicola Santos, mi è ucciso oh, 29, 21, 19 ma come ho ucciso quei? ma questa volta non fai l'ho ucciso ah, non basta si capito no, 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 no ma non ho tempo di mira, hai per sentirmi me scissimi ma mamma mia comunque dovrei morire di meno, eh stavo facendo 35 kg, com'è possibile mi seguite tutti è finita quando per quando abbiamo perso per quanto no che cazzo partite che ha già fatto fate che cazzo attivano tutte e due in 32 13 e 20 magari che cazzo divertito che abbiamo fatto un'altra volta a bovota non è quella di me c'era si attrava quella di uno sembrava un film grazie